Allora Jack, ho un'idea. Visto che nessuno vi dà lo spazio che vi meritate, lo spazio ve lo creo io con un colpo di scena. Ci stai? Va bene. Mi dà la fredda. Vai, io autorizzo. Benvenuto Andrea, vieni qua con noi. Ciao a tutti. Eccolo. Oh Jack, colpo di scena. Colpo di scena, lasci la poltrona. Facciamo un brindisi. Eccoci qua Jack. Allora com'è? Fuori dall'ambiente. Sei un po' sorpreso di vedermi qua oggi o... Non me l'aspettavo che lasciassero la poltrona così, no. Vediamo come conduce. Se pensi che sia questo il momento giusto per ringraziarmi per tutte le medaglie che ti ho fatto vincere in questi anni.